Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Alessandro e mi sono laureato all'Università degli Studi dell'Insubria in Scienze dell'Ambiente e della Natura e attualmente frequento il dottorato in Scienze Ambientali e Chimiche proprio all'Università Insubria. La laurea triennale in Scienze dell'Ambiente e della Natura mi ha permesso di studiare le scienze naturali che sono in realtà un insieme di discipline per studiare e comprendere la natura in tutti i suoi aspetti. Tutto ciò mi ha permesso di coltivare adeguatamente il mio interesse e la mia passione nei confronti dello studio e della conservazione della natura, portandomi a conseguire una laurea magistrale altrove per poi fare un ritorno alle origini proprio qui all'Insubria. Anche questa scelta è stata dettata dalla bellissima esperienza che ho avuto frequentando la laurea triennale in cui ho conosciuto docenti e ricercatori molto esperti e competenti che hanno sempre messo a disposizione il loro tempo e le loro conoscenze per la crescita dei propri studenti.